Salve, sono Fabrizio del ristorante Gabriel Giorgio di Nuovalore Vicentino, faccio parte da qualche anno dell'anello ecoturistico e consiglio di frequentarlo anche perché io faccio delle grandi camminate, poi naturalmente finite queste camminate ritorno al lavoro voi, avrete la possibilità anche di frequentare i nostri ristoranti, il nostro bar in modo da postrarvi e godere anche delle nostre peculiarità, dei nostri piatti tipici, delle nostre cose del territorio. Vi consiglio vivamente quando passate da queste parti di assaggiare i nostri prodotti della latteria, i gnocchi con la fioretta, il baccalà la vicentina che i norvegesi hanno inventato il baccalà e noi l'abbiamo fatto buono. Nel nostro ristorante potete trovare i prodotti del territorio che va dalla selvaggina d'inverno alla trota magari d'estate, le patate, le ciliegie, un occhio particolare alla stagionalità che il territorio ci offre.